Alla ricerca di una, o meglio, della scelta giusta, per provare a capire come e soprattutto se sarà possibile intervenire valorizzandolo sul destino dello Stadio Franchi, una situazione che al momento, così come nel recente passato, resta difficile da inquadrare con precisione, soprattutto per via dell'incertezza e della contraddizione che regnano e tengono viva la quereltra a Palazzo Vecchio e la soprintendenza, tra progetti mai presentati in maniera formale e dunque mai bocciati, vincoli ed alienabilità, con la conseguente volontà di metterla in atto. E tutto questo con la terza parte in questione, la Fiorentina, che tra i due litiganti deve assolutamente cercare, evitando che i tempi si allunghino ulteriormente, di trovare la miglior soluzione al riguardo. E dunque, come si dice, il miglior modo per delineare il futuro, in questo caso di una struttura che oltre ad essere un bene culturale, ha inoltre valore di monumento storico, è provare ad inventarselo. Il problema però è che questa possibilità è talmente limitata che per qualcuno quasi converrebbe come soluzione da adottare quella di non adottarne alcuna, non intervenendo e lasciando tutto com'è. E nonostante in molti stiano cominciando a pensare che il peggio si trovi più nel futuro rispetto che al passato, le possibilità esistono dalla copertura ad interventi di adeguamento interni, una giunta che avvicini le gradinate al campo, ma il rischio di andare ad intaccare snaturale quella che è l'essenza e la storicità della struttura, è ovviamente altissimo. E allora che fare dell'Artemio Franchi? Beh, una domanda alla quale ancora non sembra esserci unità di intenti tra le parti per trovare la migliore risposta.